Grida sempre ad alta voce, questa è casa mia E puoi farlo da Bagnaria fino a Pavia Grida forte che ti sentano fino a breve Che la voce arrivi fino a Valle Salimbene Perché dillo non si batte, stateci vicino Come fanno anche gli amici di Vistarino Qui vi tiene compagnia, solo gente alla mano Che potete anche seguire da Novara a Milano Cilavegna, poi Tromello fino all'Andriano Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottobiano Quindi ora fa un sorriso che si comincia Gireremo insieme tutta la provincia Carissimi ben ritrovati Oggi vi porto a pranzo con me In una gustosa pausa dedicata allo street food Ebbene sì, perché è il cibo di strada È arrivato a Vigevano E allora fatevi rapire insieme a me Da dei piatti, da perdere la testa Ciao, ciao, io ti metto tutte le sere state Bravo, e ora si mangia però Vieni, andiamo a mangiare E allora cominciamo il nostro exploit tra gusti e sapori dal Brasile Come ti chiami tu? Domenico Tipico brasiliano Non proprio Senti un po', qua dietro sta cuocendo, arrostendo la carne forse più tipica e tradizionale del Brasile Esatto, sì La carne principale è la piccagna La piccagna Piccagna, sì, proprio così Piccagna Noi facciamo un piatto chiamato churrasco Churrasco Che comprende cinque tipi di carne Tra cui quella principale è proprio la piccagna Hai capito In più comprende il pollo, la salsiccia, le costine e la coppa Proprio un tuffo, un tuffo nella carne Brasiliana Senza neanche mettersi la cuffia Buonissima Senti un po', piace sempre tanto Molto, molto Sicuramente D'altronde con delle immagini così Questo grasso E poi si vede anche Ma non dirlo, fa niente Grazie caro, ciao Grazie a te, ciao A proposito di carne Vi presento anche altri amici Lei come si chiama? Marco Da dove venite? Da Pistoia Ecco, piena Toscana E in Toscana di che si parla di cibo, insomma? Che ci offrite? Ci vuole risparla bene Carne, ripollita, trippa, l'ampliodotto C'è tutto Carne, ripollita, trippa L'ampliodotto, la Toscana Ma sarà anche per quello che poi i toscani vivono più a lungo? Speriamo Ed eccoci giunti Aio In Sardegna Ciao caro, come ti chiami? Io Paolo Vedete Paolo è molto attento al suo maialino che sta cuocendo Senti ma raccontami un po' questa terra Che dobbiamo dire ancora? Parla da solo la terra Sardegna Dal mare alle montagne Al pesce, alla carne Non si manca niente Senti ma credo che stai preparando il maialino Questo è un grande classico, giusto? Sì Un grandissimo piatto poi anche Come lo servi? Questo quello lo diamo a porzioni Col pane, pane sardo, buono E poi qualche contorno a chi lo preferisce Hai capito? Fatto col mirto Qui c'è un profumo Che è una cosa incredibile Perché uno si aspetta il profumo di Griglia E invece c'è tutta una serie di aromi Di... Mamma mia Questo è il mirto originale Preso da giù della Sardegna normale E lo facciamo così Al naturale Bravo, a parlarne sei bravo Ma però fammi assaggiare Eh, morsicalo Ecco un altro amico qua Con tutto il suo stand Al seguito Come ti chiami? Da dove vieni? Io mi chiamo Tommaso Lo zio Tommy Lo zio Tommy Che lo zio Tommy mi ha preparato un panino Mica da ridere L'ampredotto L'ampredotto Com'è l'ampredotto? L'ampredotto è la trippa nel panino La trippa nel panino Sì E il quarto stomaco L'epamazo della bestia Che solitamente si butta via Ma i fiorentini invece lo preparano In un modo fantastico È un popolo colto, è un popolo molto colto Ed è l'unico L'unica zona dove non buttano via quel pezzo di budello Diciamo che Che adesso io mi mangio Bravo Che lui andrà a mangiare E poi si saprà dire Questo qui è il mio amico del Perù Come ti chiami? Gioe Gioe Allora, ascolta Mi stava raccontando in segreto Il suo La sua griglia artigianale Come cuoci la carne tu? Sì, sì È un sistema particolare Che è diventato molto famoso Non soltanto nel Perù Sino a livello internazionale Consiste che questo sarebbe un cilindro Sì E all'interno si piazza le braccia Puoi piazzare tutti i tipi di carne che vuoi Maiale, vitello E poi una volta che è dentro quanto la facciamo cuocere? Eh, va all'incirca due ore Due ore e mezza Due ore, due ore e mezza Sì, sì Perché? Perché naturalmente All'interno si crea un grandissimo calore Dove Fa il possibile Che La carne Scola tutto il grasso Tutto quello che ci fa male Questo è contro il colesterolo Perché tu ci tieni al colesterolo La salute più che altro La salute più che altro Comunque è il peruviano De carne sentiende Eh, sì, sì Poquito però M'entiendo Poquito ma sentiende Bravos Grazie Saludos dal Perù Saludos a tutti Tante belle cose Ciao caro A presto Sono bravi C'è niente da fare Sono bravi E che tu non l'hai mai fatta L'intervista selfie Ah, ogni tanto l'ho fatta Sta tagliando la cipolla Come ti chiami? Emilio Emilio, da dove? Da Firenze Non l'avrei mai detto È vero no Non l'avrei proprio mai detto Senti, che state preparando voi È commensale Ma senti, noi si fa la cucina fiorentina Si fa la ciccia Sì, la ciccia La ciccia la fanno che gli altri Si fa l'ampredotto Si fa la trippa La ribollita La pappa e pomodoro La pappa e pomodoro La borgherina di canina E tutta sta roba Eh, oggi la Toscana qua domina Ha sempre dominato Ha sempre dominato Anche Rezzi C'ha me Eh, appunto No, e lì ci volevo arrivare Dicevo appunto Che c'è anche il premier Che è grande 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 È toscano Vero o no? Lo devi di tu Io sono giornalista Sono imparziale La grande Accidentale Sordi Vabbè, senti Ma un fiorentino Che dice forza Juve Ce la facciamo Farglielo dire Allora, eh, se vuoi Stani mi cazziamo bene Sennò tu ti le vi di culo Se lo dio subito Ecco Parlamo caramente Il concetto è chiaro Mi non si odiano Ricordai Somma, occupati di quello Che di calcio Ne capisce Ne capisce Ne capisce E se cancella Ed eccoci in Liguria Ciao cara Ciao Come ti chiami? Io mi chiamo Ana Maria Da dove vieni? Vengo da Genova Genova Senti, sono venuto qua Perché mi sono sempre chiesto Ma perché limitare Il fritto misto al ristorante Quando invece posso passeggiare Riva al mare Mangiando totani e calamari Beh, diciamo che Il mare ve lo stiamo portando Noi direttamente a Vigeva No? Brava Per farvi rivivere Quell'estate Che è quasi dimenticata No, no Io ce l'ho ancora nel cuore E quindi c'è la possibilità Di poter continuare A rivivere l'estate Portando nelle strade Dei piatti tipici regionali Liguri Il pigato e il vermentino Che sono i nostri Le nostre manforte Diciamo ecco Abbiamo le due bottiglie Di vino più pregiate Della nostra terra Bene Boh, ti lascio lavorare Hai detto tutto Lo stesso è per te Grazie per quello che fai E grazie a voi Che ci ci nutrite Con tanto amore Buon appetito a tutti Allora Iva la Liguria Shhh Son brutto Eh, cazzo Ha detto da solo Eh, che mangiate Che mangiate No, per il momento Niente Come niente Stasera Abbiamo finito adesso Di mangiare E che hai mangiato Eh, a casa Ho mangiato I spaghetti Ma hai perso un'occasione Lo so Però stasera Stasera E questo è un'occasione E questo è quanto Mangiare Abbiamo mangiato E bisogna tornare al lavoro In posti così Per me Bisognerebbe prendere la residenza A domani Ciao cari E allora E allora Dillo E allora Dillo E allora Dillo Ha ha E allora Dillo E allora Dillo E allora Dillo Ha ha Dillo 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 Dillo